ciao amici e colleghi questo è un video speculare a quello di leo ciao raga praticamente la settimana è andata molto bene si ti giuro abbiamo fatto un concertino l'intesa san paolo con annesso filmacopie concertino cavialino filmacopietto con tutti quanti che mi amavano ho fatto degli autografi come sei bravo come sei forte ma io davvero sono serio abbiamo pure le immagini nostre eh ci stanno queste stampe io ho detto ai bambini se volete scarabocchiatelo a volte l'hanno scarabocchiato altri un po' timidi ma bambini bisogna scarabocchiare che facciamo poi abbiamo fatto anche un altro filmacopie per amazon ragazzi vi dico poi oggi live che vogliamo fare le prove altre prove poi andiamo sul palco tutto liscio tutti salvi e niente saluto a casa leo un saluto a casa ragazzi ci siamo visti il grinch in anteprima ciao